Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Noi Boy e Gameplay Piccola informazione di servizio Ma stai sento Vi consigliamo di seguire su Instagram Un bravo ragazzo che si chiama Lui si chiama? Video Video Boy Scritto Chiocciola Video Dio Dicevo Guarda 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 No dai Guardalo non è morto Cazzo gioco di merda E' proprio un gioco di merda questo Mamma mia che gioco di merda Porca puttana E' tempo perso Volevo giocare proprio dritto ragazzi Basta Avete rotto a cazzo Allora cercate Video Boy Game Su Instagram Seguitelo perchè fa delle belle foto Postate cose divertenti Recensioni e varie Ok? Dopo vi metto il link Mi metto come si scrive Così non mi sbagliate Dimmelo a me che crepi di vicino Me lo dici chi è che crepi di vicino Non lo sapevo Ma controllo che lo devi tenere Che cazzo di armato? Atlas 20 Cos'è? Col Ma guarda che cazzo di armato sta usando questo Non guarda che No è tipo un'arma che non puoi usare Ok quello non si può Lo faccio papi su seaweed attenzione... Ah, da prima cosa cosa il cane che incontめ a tempo fa per grim lavoro... Qu Magee! Dai! Ma perchè?? Ma perchè?? Madonna!!! Vedete cheируca cienti che non muoiono? E' patetico! Veramente N revise! kl &qgt Lo glielo ripreso.. Lo andiamo pure... ma hai fatto? l'hai fatto l'Arsensystem Morse Blackboard what the fuck is that ma cosa? ma dai adesso andiamo sul pesante eh vabbè la gente gira col bulldog cioè ragazzi in Call of Duty non si può girare con un cazzo di bulldog di fucile a pompa da distanze chilometriche cazzo buoni! biglietto ah e non maledetta figa frigida nooo erano le cose un po' cari ucciso grande mamma mia che gioco di squadra ucciso stai no dov'è l'Arsensystem dov'è Stefano dimmi dov'è l'Arsensystem non lo sa Stefano dimmi dov'è l'Arsensystem non lo sa ma sei un po' rubrioso sei peggio di mezzo caro questo gioco veramente una roba verrà ecco vedi c'è giochiamo con 3 bot e poi ci minceranno no le bot sono le ho testate è vero giuro è una roba fondate ca box eeeh vabbè non puoi fare certe cose noia c'era un vetro non mi faceva andare guardalo guardalo morto un altro un altro mamma mia mamma mia questo Stefano madonna è bello quando ammazzi qualcuno è fino ma se sei bravo no non è che se sei bravo se hai il buco di pool e devi avere una connessione ti fanno dire prima al centro eeeh ecco vedi il piccolo video che l'ho visto prima sono sconfillandolo ti metterò la parte sui chi c'era lì? infine basta campionare ok ciao ciao ma sono Stefano e sono diventato un program hai visto quel video di quella figata frigida no ok ok sappiamo di chi farli ma si tutti da sala tutti su web l'hanno vista è famoso ah quella figatica? sii ok ok due due non amazzarti signori due mi è venuta l'idea ragazzi vai però sta ricordando il video magari non lo vedete ma io prendo il resto ma guarda te ma guarda te ma non è possibile non è possibile voglia posso dire la videa posso dire la videa allora se voi ci lasciate ci lasciate il vostro gamertag di xbox live ci incontriamo su online o gicami simile? eh? ma neanche per sogno! si si ha ragione Stefano ma che l'amore è una bella idea se no vi lascia uno al nostro si molto semplice si si vabbè me lo scrivi ma guarda te che managente mi arriva da dietro ma guarda di madonna di madonna eh veramente ma io posso fare così? posso fare anche lo schianto? mi ero dimenticato ragazzi che potremmo schiantarmi al sole e farla premisciata guarda chi? certo vai da più salto ti schianti ti schianti per terra ti ammazzar lente esatto guardalo l'avevo lì l'avevo lì l'avevo lì l'avevo lì l'avevo lì l'avevo lì si vede mi ha vinto c'è un'altra guarda c'è non ci credo guarda chi l'ha fatto pazzesco bravissimo sei fossil boom boom morte realistica allora hanno fatto 7 mamma mia andiamo ancora meglio 12 12 12 12 bene 7 o 12 ragazzi ne facciamo un'altra subito dai subito dai oggi è il 2 2 2 di fil no 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 ragazzi E' meglio di prima! Oh, raccogli, quella doveva raccogliere? Laga, lagga ragazzi, lagga Ma da mattina, cos'è? Facciamo raccogli Questa cosa bisogna fare? Eccolo, eccolo! Lo saperemo dove va a football? Non ne vediamo, non ne vediamo Non ne vediamo A brincare una roba Non ne vediamo C'è, c'è la prima roba Io non ne vediamo di più Uccidi! Scriveteci in descrizione Perché non ne vedete Adesso c'è... No, in descrizione le scrivo io Sì, ma scrivimi nei commenti Dov'è? Dov'è? Mamma mia E' questa pistola La voglio Ma cos'ha? Colpo... Ah, è una cosa che vuole uscire Non deveva flincare quella merda Non doveva flincare Lì c'è una fling! Ci vado? Questo, questo... Cosa vuole fare? Prendilo e vai da... Non c'è rito! Non l'abbiamo fatto! No, no, non c'è rito Ah, devo passare dall'altro Cazzo uscire Mamma mia Ho il drone, ho il drone Scappa Umber Scappa Hai anche la corazza dietro Wow! Gente dietro, la gente dietro Con... con che cosa l'ho ucciso? Ma dai, ma... Non possono rinascere in base Sti cancheri di persone Non deve affincare Stefano Non deve affincare Questa è un'altra cosa Ma dai, la mia droga Oh, vieni qui! Vieni qui! No dai, no, la ha caricato adesso! Ma dai, ma dai Ma sul Tira, devo Ce la... ce la lascio... ce la lascio... Andiamo, andiamo Dove devo andare Descite la posizione Uore Cuore non è vero c'è il colpo si è cancellato no dai ragazzi è una roba imbarazzante veramente se tu spari il proiettile non arriva perché tu muori c'è che cosa mi sta a significare questa cosa no dimmelo grande upload out ma non è che ci avevano questi compagni questo per noi uccidi vedete che c'è l'antico è un nemico veramente no mamma mia ho il formento questo gioco è vero fa schifo ho di cosa fai anch'io ho di cosa fai ancora meglio alo ragazzi arriverà alo su un altro canale prima o poi mamma mia ho una mira che è penosa ma che hai visto il caricato lo metterci un mirino sta cazzo di alo mamma mia questa pistola oddio questa c'è sii ma se ne soppressano se ne soppressano è di sotto è di sotto c'è uno nella finestra eh ti stai seguendo uno ti stai seguendo uno ma boia de boia si ma gli ho spalato bisogna fare una no viola vedere chi è te lo so non andare in giro insieme e se così ci trittano nooo non fai sta cosa chi è ah guarda ok se mi chiamava che è stritta guarda oh ma c'è una cosa ma guarda a te cosa mi è passato qui cosa si è passato vai tu dovevi andare guarda non è morto non è morto madonna de dio muore oh ce l'ho fatta vai no ma ragazzi ma è aberrante sta cosa dovete andare perchè mi hanno passato qualcosa perchè devi andare a applicare la roba si ma me l'hanno rifilato mentre lì camminavo intervallo mamma mia mi ha fatto sei dubbi ragazzi siamo qui ragazzi siamo ancora qui mamma mia si vedono quel sogno ma si nervono ma si nervono mamma ora ora non c'è una grande per il tiro non posso bravo il ruolo nostro guardiamo coprite 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 sta coprendo sta coprendo proteggi ah si quanto duro sta cazzo di pistone che stroppa ragazzi allora muori muori in mare muori in mare muori in mare muori in mare sono in base a mia amica sono in base devo proteggere il mio amico no si si guardalo 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 mamma mia colpò la testa mamma oh fireball fireball no guarda dov'era guarda dov'era guarda dov'era zica prendilo 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 arrivo c'è gente e' in base a metà non saresti uscito a pagare perchè è in mezzo a metà chi c'era? non sarei no saranno loro beh dove l'era rimpostato dove l'era rimpostato l'avevo rimesso a pagare ah Gioca a noi! Andi! Cazzo! Ma dai! Ma ti sparo in bocca! Madonna mia! E' purentile da una questione a cazzonare! Tra la che incazzano altro! Io sono eseguito difendere! Non andare sul top eh! E' amicidiale! Veramente! E' amicidiale! Non raccogliere il drone! Usano come... Un del buavì! Vuoi difendere? Bisogna trittare quello top fire! Ma cosa c'è là in fondo? Cosa c'è Michael? Ma che schifo protegge! Ma non protegge un cazzo! Uccidi c'è un bro! Ma non c'è un cazzo! Ma non c'è un bro! Il drone a terra! Guarda guarda! Menta! Mi salto i nostri! E' bisogno di... Eh no! Stavo usando una pistonina monopolt! E' veramente uccidio questa cazzo di pistonina di me! Uccidi uccidi! Dobbiamo uccidere! Nooo! Eh no! Merda! Drone riassegnato! Drone riassegnato! Drone riassegnato! Drone riassegnato! Eccolo! Eccolo! Ah! Sa di vaso a vaso eh! Pensate che adesso si inizia a far spawnare i posti... GUARDA! No dai no ragazzi! Non può! No no veramente! No no no! Cosa c'è da fare qua Aquilin? Vabbè ma se nessuno mi copre può col diavolo di un diavolo di un diavolo per non dire altro! Cosa c'è da fare qua? Cosa stai facendo? Ti dico Aquilin? Devi andare di sotto? No no! Lasci stare! Lasci stare! Lasci con il drone! Lasci con il drone e basta! Lasci con il drone e poi fai la blink e ecco! Drone in mano! Drone in mano! Drone in mano! Drone in mano! Mamma mia! Spacco la testa! Spacco! Faccia di pezza! Ok! Oh! Bisogna uccidere la mezza! No no! Stai la blink! Madonna di dio! Ma che la senta? Sto ammazzando l'una su! È deciso? No! Promozione! Mamma mia che po... Ma non ho mai managato! Non ho mai managato! Adesso ho passato la parte! No! Va beh! Ho segnato! Ho segnato! Ho segnato! Poi! Ho segnato! Vabbè! Ho segnato! Vabbè! Ho segnato! Ho segnato poi! Uccidi! Ce l'hai! Ce l'hai tu! Il diavolo! Non è una terra! Ecco io! Spostate! Tiratelo fuori mappa! Impecilli! Dov'è? Non c'era! Non c'era lui! Non c'era lui! Non c'era lui! Ma di che erano fuori mappa! Almeno... E' questa pistola! E' questa è una super terra! Madonna! Sono dappertutto! Dio! Sono dappertutto! Guarda! Guarda lì! Guarda lì! Quanti sono! Prendi il trono! Bam! Passati! Ma no! Ma no! Andate a fare i contenti! Spronzi! Ma le idee! Scusate! Oooo! Oh! Mi ha vinto! Fa per prima! Stavo per fare un altro punto perchè la gente è imbarazzantemente scarsa Stavo facendo... stavo facendo... springa linga 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 con la palla, guarda una sedici venti due... Oh si, ci sento bravo! Ma che bravo? Sedici venti due... 5-21! Beh ragazzi, scusate, siamo stati un po' scurrini ma questo gioco ci... tira fuori... ...fai i giochi... Si, ci fai... ...cappi... ...bestia... Va bene, ragazzi ci mettiamo alla prossima con un bel nuovo video di questo gioco di merda Mi piace, iscrivetevi, condividete e ciao!